Arriverà mercoledì a Ravenna l'Artemis, la prima crociera della nuova stagione turistica. Saranno 104 le navi attese al terminal di Porto Corsini, più o meno lo stesso numero del 2022, ma i passeggeri saranno molti di più, 300.000, record assoluto, 100.000 in più rispetto allo scorso anno quando la capienza delle navi era limitata a causa delle normative di sicurezza legate alla pandemia. Dopo l'Artemis arriveranno a Porto Corsini altre due importanti navi, l'Island Princess l'1 aprile e la Zamara giorno il 23 aprile. La stagione crociaristica entrerà però nel vivo il 7 maggio con l'attracco della Marella Explorer 2. Praticamente ogni domenica, poi fino all'11 novembre, lo scalo vedrà attraccare una nave diversa. Il 2023 sarà anche l'anno di inizio lavori per la nuova stazione marittima. Durante la conferenza di presentazione del piano triennale degli investimenti dell'autorità portuale, il presidente Daniele Rossi ha definito l'attuale terminal come non all'altezza di Ravenna, una soluzione non dignitosa essendo il biglietto da visita della città. Accanto al nuovo terminal sorgerà inoltre una nuova area verde di 7 ettari a disposizione della comunità. Fra i 25 e i 30 milioni l'investimento complessivo, di cui quasi 6 a carico dell'autorità portuale. La parte rimanente sarà invece sostenuta dalla stessa compagnia che ha preso in gestione il terminal, trasformandolo in on-port per diverse importanti crociere. Cruciale diventerà la collaborazione con gli aeroporti di Rimini, Forlì e Bologna, anche perché saranno 54 le crociere che faranno di Ravenna il porto di partenza oltre la metà dei viaggi previsti. Ogni passeggero di una crociera si stima possa spendere 100 euro al giorno nella città che lo ospita. La spesa sarà 350 euro in caso di on-port. Nel frattempo, nel 2022, il turismo ha fatto segnare numeri che in certi casi hanno superato i dati del 2019, prima della pandemia. In Riviera sono state calcolate dalla regione Emilia Romagna 42 milioni di presenze, il 15% in più rispetto al 2021, 7 milioni di arrivi, 22,4% in più. Bene anche le città d'arte con oltre il 26% degli arrivi di tutta la regione. Grande attrattività da parte dell'Appennino, presenze in aumento del 26% sul 2021 e gli arrivi aumentati di quasi il 31%.